il miracolo si compia. Fra poco il cardinal Sepe porterà in processione la teca contenente il sangue di San Genaro. La preziosa reliquia in questo momento è all'interno della cripta del tesoro del santo. No, non è politica. Cosa pensavo per l'Italia per essere dividita? In tutti i paesi dell'Europa abbiamo una divisione, ma credo che dovremmo essere tutti in Europa. Questo è il mio punto. Non c'è il punto di essere dividita. Allora, Fortezza ha detto che in tutti i paesi ci sono dei problemi di divisione. Parliamo della Spagna, della Francia, dell'Inghilterra, della Scozia, ognuno ha problemi. Ma sono problemi storici ma che non devono incidere perché l'Italia è una, l'Inghilterra è una, la Spagna è una, l'Europa, che dovrebbe essere la pace per tutti. La sua famiglia, la sua famiglia, la sua famiglia, la sua famiglia, la sua famiglia è veramente ancora in amore con questo paese, con questa parte dell'Italia? Allora, io amo moltissimo l'Italia, la mia famiglia ama l'Italia, perché mio figlio viene spessissimo in Italia e prima o poi cercherò di essere più in Italia che altro, ma purtroppo io ho delle aziende da mandare avanti e come tutti il lavoro ha dei tempi molto duri. ... ... ... ... ... alle prime sogne della vita sociale, già caricati per esempio dal peso di difficoltà familiari.